bella ragazzi sono the dark light siamo qui su happy wills insieme a ronnyman bella ancora un po' no? io già sto giocando già sto giocando allora freccia su freccia giù e spazio oh dio che figo livello della madonna vabbè con cui c'è un peggio va bene io sto giocando oh che livello della madonna brutto e stronzo ma che figo mi sono pure io non so come questo funziona perchè si vede così de merda sto andando 80 fps mentre mori stronzo minchia sto un ninja sono whatta non lo so cio mi è rimasta la testa sto correndo tipo una velocità supersonica ma gli è rimasta la testa questo ho vinto minchia che bestia exit menu raga allora andiamo a fare 100 modi per morire davvero c'è? buh si allora uno però aspetta perchè non si è giusto la telegamerina parte 2 è sempre scomodo che devi guidare con frecciate non ho fatto niente in questo livello è rimasta la testa ma va bene minchia questo qui sta cagando esplosivo di arrea minchia fatality ma vaffanculo quello esplode si spara un colpo in testa papam questo qui cade si si spappola questo qui si schiaccia da solo questo qui il prete no che cazzo? il prete ha oh di poco non vincevo il prete ha fatto una cosa strana perchè? qua il prete è morto qua due gay si sono baciati e il terzo è geloso e l'ha ammazzato qua c'è un vecchietto che fa lololol e poi esplode questo muore si ma davvero sono 100 modi e me li devo guardare tutti ah ho finito perfetto 100 modi per morire ma ce ne 15 perfetto allora andiamo a fare io sono quello con il jump tipo non so io voglio fare un come cazzo si chiamano? sword throw nice eh però qua è il mio livello poco anzi voglio fare un poco vediamo che cosa mi trovo con poco poco challenge madonna mia no no riesco ad arrivare a quello madonna mia ahia ce la posso fare oh ah si vabbè si e finiamo in grande stile raga bellissima 50 secondi per finirlo ma ce l'abbiamo fatto oh raga devo oh raga devo io no ma che cazzo sto facendo dovete facendo il hard io sto facendo lo sword throw no lo sword throw il poco jump è una specie di sfida e chi deve arrivare di più in alto ah ho capito quello che ho fatto appena adesso io davvero tipo una linea di arcobaleno e tu devi no no erano come delle scale ma sempre più alto si ho capito però che cazzo ah 100% impossibile qua è un casino veramente madonna io voglio fare lo sword throw così e poi a te fa il 99,9% impossible no non ci voglio sword throw non so come cazzo si fa ma non fa nulla ma fa un bagno dai no no com'è che si acchiappano le armi spazio ce la devo fare ma che figo ma che figo ma se ne prendi ste cazzo di armi però son contento si è nella città dei lati si mi sono suicidato raga è un po' di cioè con calma non sono un esperto di queste cose ma non ma non ma non ma non madonna ma questo la vita di strada per affrontarla devi avvenire la troia la vita di strada è piena di veri per affrontare i miei che senti il ragazzo che sta vedendo il telegiornale mannaggia lui ho vinto ho vinto lo sword throw ho vinto ho vinto ho vinto no sono risalito qua ma dai me l'ho vinto facciamo un altro sword throw quando li trovi ho scritto sword throw ma c'è chi si schiava prima dove si scrive mi ricordo più sotto ci si ha scritto cerca come si chiamano? eh vabbè suicidiamoci sword throw scendisca scendisca lettera per le edizio sword madonna ho preso un ciccione nel nel pisello scusate sono sbagliata a scrivere ma va bene ahhh evit fight ma con la doppia o senza ahahah ho scritto tutto qua dove cazzo è morto quello? eh comunque senza questo figlio mi piace si vabbè grazie io la spoglio che cosa vuol dire ah dai mio io l'ho ficcato in mezzo alle gambe non ci sono romanti se dici fps ma si gioca lo stesso quanti? non ci siamo dd 30 80 sì ma e' ddura i alessandro a 40 anni no 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 allora cerchiamo play count ah ma solo sul trovo come cazzo faccia a togliere il suo trovo beck boh solo sul trovo ah ok boh posto ok boh posto pokémon figlio che palle ho niente di bello dai usiamo il signorini no vediamo questo qui è scritto ma io ce la posso fare yep no ma cosa vabbè me ne colgo dopo me dopo mezz'ora mi cazzo ho vinto si vabbè mi sono spaccato le gambe cosa fate voi che figo sto in pubblico oddio si ma eh eh c'è un piccolo problemino aspetta no ma non riesco a beccarmi ma li becco eh io sto soltanto un po' crepando perchè ah rallenti mi è andato bene sono andato avanti in retromarcia perchè c'ho le gambe rotte non riesco a google è morto yeppalo ce la posso fare a beccare quelli li eh ho già otto minuti di video ma stiamo scherzando oh oh erca boi elevati vaiiii che figo sto livello però sarta 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 simbale psico che cazzo che ma spartano le anguri addosso è finita raga è finita toccalo come si chiama battle battle come si chiama battle run grande eh perchè scelto nuovo personaggio i cazzo si scriveranno r un run run r un battle battle avorano battle run battle 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 run allora fatto vediamo questi figo si naturalmente batteranno con il vecchietto lo facciamo no ma perchè uno solo me ne ha trovato di battle run si è stra difficile ma vaffanculo oh ma è difficile questo parte direttamente no porca puttana mi stanno sul culo ne voglio una dove non c'è quella cagata lì iniziale è solo così eh ma è vero si non vi preoccupate tagli e tagli e poi si è scomposto la bici qua anche come son crepato ma una volta l'ho fatto giusto si ma aspetta un attimo c'è qualcosa che non può ah eccolo nooo so caduto giù ho capito come si fanno oh 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 no eh si vuole quanto cazzo è lungo dai 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 furo in 7 secondi right vaffanculo fawc voto rango voglio farlo per questo daiii noii erca voglia puttana questo è difficile voglio farcelo però dai 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 dei dei di vedere ha vinto la bicicletta la bicicletta ha vinto, sono apposto l'importante è quello ora ragazzi 11 minuti di videorebasta ragazzi per questo video è tutto. 5 like! Va bene! 5 like! prossime episodio è più buon sia per questo video io finisco questo battleground e chiudo lo farò lo stesso perchè è figo questo gioco! È troppo figo cioè epico farò altri livelli consiglio di Elms per questo video è tutto tanti pollizioni i canali di tutti sono in descrizione ci siamo alla prossima bella ragazzi bella e tanti like